Il campionato è fermo per via della sosta delle nazionali, però da sabato, da sabato sera, c'è una domanda che gira sia tra i tifosi del Cagliari che tra i tifosi anche delle altre squadre di Serie A. Ma quanto è forte Nathan Nandez? È una domanda che gira insistentemente sui social ed è una domanda giusta. Quanto è forte Nathan Nandez? Me lo chiedevo quando è arrivato, quando è arrivato lo scorso anno, su un'intuizione di Kossu che l'aveva visto chiaramente in Argentina. Insomma, era un giocatore forte già allora, forse più forte di quanto è stato pagato. È un classico tornante, un'ala che può adattarsi in tanti ruoli. È arrivato, ha fatto un'ottima prima parte di stagione, una seconda parte di stagione un po' più difficile, ma ha pagato un po' lo scotto di tutta la squadra, lo scotto della pandemia, insomma tutta una serie di situazioni che hanno inficiato poi sul suo rendimento. Però quest'anno sembra cambiato qualcosa, perché? Perché l'anno scorso avevamo Rajan Angolan che faceva un po' da parafulmine un po' per tutti. Era il leader, doveva trascinare la squadra e doveva fare veramente grandi cose. E per un certo periodo le ha anche fatte. Quest'anno c'è Godin, però Godin ancora deve prendere un po' le misure. Al momento sta riuscendo a gestire in qualche modo la difesa, anche se i gol sono stati tanti. Però non è ancora il leader che magari di Francesco vorrebbe. E allora lì in mezzo al campo c'è un ragazzo, giovanissimo perché è giovane, che ha incominciato a prendersi sulle spalle la squadra, a trascinarla, a dargli quella solidità di cui avrebbe bisogno. E Nathan Nandez è quel tipo di giocatore. Nandez è veramente forte. Non c'è neanche da farsi la domanda. Se lo stanno chiedendo anche Liverpool, Inter, Lazio, tantissime squadre europee che lo vorrebbero per il prossimo anno. Quanto è forte Nathan Nandez? L'abbiamo visto in queste partite, l'abbiamo visto contro la Sampdoria. È un giocatore totale. Non c'entra niente l'essere uruguayano, avere la garra, tutte queste cose, questi stereotipi che di solito accompagnano gli uruguayani. No, è un giocatore totale. È un giocatore forte. È un giocatore che sa adattarsi in ogni ruolo. Sa fare l'ala, sa fare il tornante, ma sa fare anche la mezzala. Sa fare il mediano, sa giocare dietro le punte. E ha un gran senso del gol, se ci avete fatto caso. Non è un giocatore che tira tanto, però è un giocatore che quando tira, vede la porta, riesce a segnare e riesce veramente a impegnare i portieri delle altre squadre. Quindi, insomma, non è un giocatore che lascia le cose al caso. Sa ragionare bene, è molto tecnico, ma è anche un giocatore di rottura. Può fare il classico mediano, è molto robusto, quindi sa giocare anche di forza con gli avversari. Ed è un giocatore che veramente può ancora crescere. Adesso lo stiamo vedendo molto forte, però non è finita qua. È un giocatore che può veramente dire la propria, non so a Cagliari, ma anche in altri contesti. Ma soprattutto a Cagliari può continuare a trascinare la squadra così come sta facendo. Ed è un giocatore, una persona che sa farsi valere in maniera particolare. Perché? Perché è un giocatore che anche se vai in nazionale e rientra il venerdì sera, la domenica, ti fa la grande partita. Non è un giocatore che si risparmia, è un giocatore che corre, è un giocatore che vede cosa sta succedendo in campo e riesce a dare una risposta valida a quello che serve alla squadra in quel momento. Ecco perché Di Francesco non ha alcun problema a spostarlo. Lo può mettere a destra, lo può mettere a sinistra, lo può mettere in mezzo al campo, lo può mettere anche terzino, può metterlo ovunque. Perché sa che avrà sempre la risposta che cerca. E avere un giocatore così è veramente un bel regalo che ci ha fatto Kossu un anno e mezzo fa. Quindi quanto è forte Nathan Anders? È molto forte. E meno male ce l'abbiamo noi. Grazie a tutti.